La situazione è che stiamo pescando l'ultima residua acqua che era depositata nel sottopasso. Abbiamo dovuto cambiare il tipo di pompe perché le prime pompe servivano per i grandi quantitativi e queste ci consentono invece di fare un lavoro più fine. Quando sarà completamente prosciugato, ma è già attivo in questo momento, l'AMIU pulirà il sottopasso e lo riapriremo al traffico. Pensiamo in 24-48 ore di svolgere tutto questo lavoro. Come saranno le previsioni per domani e i prossimi giorni? Per le prossime 36 ore è previsto un'allerta 1, che è il più basso livello di allerta possibile, va da 1 a 3 e le piogge sono previste deboli, questo ci consentirà di prendere un po' di fiato e una tregua che ci consente anche di ricaricare le pile di tutto il sistema di protezione civile. Ecco, questa mattina è esondato a Rio Lovassina, lei è prontamente intervenuto a Spinetta per stare soprattutto vicino ai cittadini. Sì, perché questa è una delle poche cose sulla quale noi non possiamo intervenire strutturalmente, non lo possiamo fare nemmeno sugli argini dei fiumi, peraltro ci sono competenze diverse in questa nazione. Però a me dà particolarmente fastidio che i miei concittadini siano sottoposti a continui disagi per manchevolezze che non sono ascrivibili al Comune di Alessandria, che comunque un progetto per modificare strutturalmente la situazione lo ha fatto, l'ha depositato, l'ha inserito all'interno del programma Frascheta e aspetta solo che chi di competenza lo finanzi. Prima lo finanzia, prima lo si riuscirà a realizzare, prima i nostri concittadini di Spinetta non dovranno sopportare questi disagi. In ultimo, i livelli aggiornati di Tanner Bormida? Ci sarà certamente un aumento dei livelli nelle prossime ore dovute alle piogge di questa notte, avvenute sostanzialmente a monte, meno di quelle a valle. Però saranno aumenti di livelli dei fiumi facilmente contenibili e sensibilmente più bassi di quelli registrati durante la prima fase della piena. Grazie. 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 Grazie.